Nonostante il maltempo e il nubifraggio, nella Locride arrivano ancora immigrati e barconi. Un ennesimo sbarco è stato registrato a Rocella Ionica. Nella notte tra sabato e domenica, la Guardia Costiera ha soccorso a largo di Rocella un peschereccio in baria del mare Mosso, a bordo del quale si trovavano 302 persone di nazionalità egiziana e siriana, tutti uomini adulti. I migranti sono stati trasportati su unità navali della Guardia Costiera e trasferiti nel porto delle Grazie, a prodo negli ultimi tempi per molti sbarchi. Dopo l'arrivo sulla terraferma, i migranti sono stati sottoposti al test del tampone molecolare. I 302 migranti sono stati ospitati temporaneamente in attesa di essere trasferiti nel centro di accoglienza e nella tensostruttura realizzata dalla Croce Rossa di recente nell'area del porto di Rocella, gestita dalla stessa in collaborazione con la Protezione Civile. A distanza di poche ore, questa volta una motovedetta della Guardia di Finanza intercetta a 5 miglia a largo da Rocella sempre un altro barcone con a bordo altri 200 immigrati. Anche loro sono stati soccorsi in collaborazione con la Guardia Costiera e trasportati al porto delle Grazie, anche in questo caso ospitati nella tensostruttura nel centro di prima accoglienza che era stato chiuso due settimane fa proprio perché inagibile a causa del crollo di alcuni cornicioni e tetti. Dunque una vera e propria emergenza che continua sotto gli occhi di tutti senza che però ci sia un intervento deciso da parte governativa.